Negli ultimi anni le manovre espansive attuate dalle banche centrali hanno eroso i rendimenti offerti dalle obbligazioni, mentre per quanto riguarda il comparto azionario, sulle plusvalenze dei titoli azionari grava una tassazione del 26%. Da oggi il risparmio gestito offre una nuova soluzione di investimento che consente importanti agevolazioni fiscali in un orizzonte temporale definito. I piani individuali di risparmio sono nuovi strumenti che godono dell'azzeramento dell'imposta sui rendimenti generati dall'investimento e dell'esenzione di quelli di successione e donazione. L'investimento nel PIR non è vincolato, tuttavia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario che la somma disinvestita sia rimasta nel PIR almeno 5 anni. Oggi Arca Fondi SGR propone già un'ampia gamma di fondi PIR che coprono molteplici esigenze di investimento, con i due fondi bilanciati Arca Economia Reale Bilanciata Italia 30 e Arca Economia Reale Bilanciata Italia 55, quest'ultimo con una maggiore esposizione azionaria anche internazionale, fino ad arrivare agli azionari puri Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Azioni Italia, fondi dal significativo track record forte di una pluriannale esperienza sui mercati azionari di riferimento. Con queste proposte Arca Fondi si conferma leader nel segmento dei servizi in investimento per la cantina italiana, dove riesce a mettere a disposizione del grande pubblico la forte expertise sul mercato azionario e obbligazionario italiano, con più di 30 anni di track record di eccellenza. Arca Fondi vanta una solida expertise sulle obbligazioni corporate italiane che costituiscono una parte sostanziale del benchmark obbligazionario, in particolare dei due fondi PIR Arca Economia Reale bilanciato Italia. La componente obbligazionaria dei fondi a classe PIR della gamma Arca Fondi è infatti costituita prevalentemente da grandi emittenti corporate italiani ed europei, che in base ai loro fondamentali e al loro track record presentano maggiori potenzialità di rendimento rispetto ad un investimento in soli titoli governativi. Titoli governativi presenti solo in misura residuale con l'obiettivo di mitigare il rischio complessivo del portafoglio. Sin dal 2015, Arca è stata una delle prime società a lanciare un fondo specializzato nelle piccole e medie imprese italiane. Il fondo è Arca Economia Reale Equititalia. Non si tratta soltanto di piccole aziende, ma prevalentemente di imprese a media capitalizzazione che costituiscono la struttura portante del nostro sistema produttivo, la parte più dinamica ed attraente, in poche parole, l'eccellenza del made in Italy. Aziende che durante la recente crisi economica, che ha visto gli investimenti contrarsi di oltre il 30% e il GDP di oltre 8 punti percentuali, non solo sono riuscite a sopravvivere, ma sono cresciute di fatturato e di esportazione. Concludendo, il risparmio delle famiglie è uno degli asset più importanti del nostro Paese, che forse non ha pari al mondo, ma gran parte di queste risorse non sono riuscite ad incanalarsi verso investimenti produttivi. I PIR rispondono a questa esigenza, ossia sono la formula giusta per fare arrivare alle piccole e medie imprese dei capitali pazienti, non più dormienti, ma a supporto della crescita economica del nostro Paese. Grazie.